Prima cosa ci metto sotto per colato, però ne richiudiamo, stiamo ancora dai primi di maggio, stiamo ancora dai primi di maggio, ancora dal regno per colato, quindi stiamo a fresco e stiamo bene qua. Ma grazie a Gianluca e a voi, agli amici della pubetta, non siamo un ristorante, siamo musicisti, perciò se ci seguiamo, chiedete che arrivano e ci spostiamo. Quindi, ragazzi, ben arrivati, o mangiare, ci pare che non si che è vegetariano, buon appetito!